Un concorso di idee riguardo la trasformazione di Viale Marconi, una delle arterie principali di Pescara, da mesi al centro delle polemiche per il progetto dell'amministrazione comunale che ha introdotto corsie preferenziali per gli autobus realizzato rotonde e ridotto il numero dei parcheggi, mettendo in allarme i commercianti della zona. Il comitato Salviamo Viale Marconi, insieme all'associazione V, ha indetto un bando, Marconi District, volto a studenti, architetti, artisti, designer e altri professionisti di tutta Italia che dovranno presentare il proprio progetto non solo sul Viale ma sull'intero distretto commerciale che tenga conto anche di aree verdi, parcheggi, viabilità e percorsi ciclopedonali. Saranno premiati, tra tre mesi, i tre lavori che la giuria riterrà migliori. Ci saranno tre premi, hanno tre mesi di tempo per presentare questi progetti potenziali che noi poi vorremmo portare all'amministrazione per far vedere che forse un approccio partecipativo è sicuramente più culturalmente sostenibile. Speriamo che questa volta l'amministrazione ascolti le nostre proposte, fanno sapere dal comitato. Non siamo stati presuntuosi nel presentare una nostra proposta in quanto potrebbero dire, ovviamente tu hai questo interesse, hai un interesse singolo. Di fronte a un bando e un concorso nazionale magari una visione più futuristica, veramente futuristica può far aprire gli occhi a loro e magari farli mettere una volta per tutte in discussione dato che ad oggi non ci sono mai riusciti.